Antifurti, sistemi d'allarme, telecamere, le misure di sicurezza passive sono ottimi i deterrenti contro l'odioso fenomeno dei furti in abitazione. A Mira il Comune sta pensando di mettere a disposizione dei cittadini un bonus per sostenerne le spese d'acquisto. Sarà un bonus rivolto a quelle persone, ovviamente non le persone ricche, ma chi dalla fascia media in giù fa fatica per così dire a poterselo permettere, vorrà installarsi un sistema per la sicurezza domestica. Noi ovviamente partiremo prima con una proposta sperimentale, anche per capire che tipo di risposta c'è. Noi di solito con i progetti pilota investiamo tra i 5 e i 10 mila euro. La misura potrebbe essere operativa dal prossimo autunno. Nel frattempo continuano gli incontri sul territorio promossi dall'amministrazione comunale in collaborazione con i carabinieri, per prevenire il fenomeno delle truffe a danno degli anziani. Sul fronte furti i dati restano stabili, precisa l'amministrazione. I dati dicono che la situazione, almeno dello scorso inverno, non destra particolari preoccupazioni, però sappiamo anche che è sempre necessario tenere alta la guardia. A Mira abbiamo anche oltre mille volontari della sicurezza che partecipano ai gruppi di controllo di vicinato, quindi il tema c'è e va supportato.